Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci questa mattina ha donato un ulivo all'ospedale San Salvatore, un gesto simbolico segno di rinascita per il 2021 con il quale il primo cittadino ha voluto ringraziare medici, infermieri, operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta contro la pandemia. Un augurio di Natale speciale in un luogo simbolico come la struttura ospedaliera di Pesaro per ricordare anche chi non c'è più. Abbiamo piantato questo ulivo come augurio di rinascita per il 2021, l'abbiamo fatto in un luogo simbolico per noi fondamentale, il nostro San Salvatore, il nostro ospedale e l'abbiamo fatto per ringraziare il lavoro straordinario dei medici e degli infermieri in questo anno drammatico. Abbiamo avuto tanta sofferenza, tanto dolore, tante restrizioni ma sappiamo che dobbiamo affrontare questo Natale con responsabilità e intelligenza. Un augurio quindi a tutti voi pesaresi da questo luogo attraverso gli infermieri e i medici che non smetteremo mai di ringraziare per ciò che hanno fatto e per ciò che faranno. Buon Natale a tutti!